giochiamo alla pazzissima nuova modalità anzi nuova versione di questa bellissima modalità che avete letto nel titolo ma che ovviamente mi sono già scordato e ovviamente questa è super redditizia nel senso che è super super bello come zona sicura di pvp disabilitato ok perfetto per fortuna siamo nella zona sicura allora io sto super combattendo come vedete sono uno che combatte tantissimo in queste modalità divertentissime e allora andiamo un attimo da questa parte perché devo capire bene che caspita sto facendo perché non sto ben capendo attacco veloce z boom avete visto pazzesco obiettivi clicca per interagire per favore seleziona un obiettivo banditi conferma conferma i banditi perfetto andremo a cacciare i banditi raga incredibile vedremo un attimo come saranno questi banditi pazzeschi obiettivo completato però ok muoviti se no devo chiamare non lo so qualche tipo non lo so in realtà io sono pirata quindi pirata con la maschera in realtà quindi vabbè insomma comunque come faccio a prendere i banditi in tutto ciò sono questi i banditi domani eh si è un bandito vedete adesso posso picchiare tutti i banditi boom 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 guardate raga cioè ci stiamo picchiando tantissimo mi sto picchiando contro un bandito vai vai perfetto mamma che forte che sono sto cercando di capire allora qua come vedete qua sotto ci sono tutti i bellissimi soldi che tecnicamente allora la ricompensa dovrebbe essere di 350 dollari quindi appena ammazzero tutti i banditi di livello 5 che peraltro mi stanno anche ammazzando potrò eh vincere di base cioè nel senso tutti quei soldi e l'obiettivo è un po' questo no vincere tutti quei soldi ah però scusate non ci sono altre armi perché secondo me dovrebbero esserci altre armi e più avanti andiamo più ci saranno cose difficili no? e più ci saranno cose difficili più sarà come dire più ci saranno anche armi difficili hm? se possiamo dire questa cosa qua bellissima boh proviamo un attimo ad uccidere tutti questi tizi allora smettila però di picchiarmi perché sennò devo chiamare la SWAT e chissà quale regno c'è lì davanti che secondo me si può anche andare in realtà a vedere eh secondo me c'ho questa questa impressione pazzesca si può andare a vedere boh ma voi ci giocate questa modalità? scrittemi se ci avete mai giocato questa modalità perché secondo me eh è divertente si molto divertente come potete ben vedere però secondo me molti di voi ci hanno già giocato non vorrei dire ma magari una modalità abbastanza vecchia per quanto ne so non lo so vediamo magari mi sbaglio menu vediamo qua le statistiche perché mi da tutte queste robe ok posso fare più difesa ok però più spada dammi una spada dammi la spada ok e poi combattimento ravvicinato perfetto ah aiuto cosa sto facendo annulla 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 cosa sta facendo sto qua scusami perché sta facendo vedere stupido? ma basta ma basta ma basta un bandito è un bandito di livello 5 questo qua pensate un po' mi stava pure picchiando che schifoso perfetto però ho vinto ovviamente e sono dunnis certo che ho vinto ehm attacco veloce z ah giusto perché io posso anche usare gli attacchi veloci allora clicca per interagire vediamo un attimo ehm ok non voglio archiviare niente non voglio non voglio grazie grazie per questa opportunità pazzesca di fare questa cosa che hai detto tu ma che non mi interessa però adesso voglio andare a provare il mio attacco super veloce contro i banditi e qua ci divertiamo tantissimo venite tutti qua banditi stupidi perché più venite qua più mmm non lo so più madonna vieni qua ma boom io sto cercando però di fare l'attacco veloce mi scusi eh mi sta rovinando tutto mi sta rovinando tutto devo chiamarle ma perché il mio personaggio cammina così è stupido? ma che problemi ha? vabbè eh però ci siamo ora ci siamo boom ehm l'ho buttato l'ho buttato in mare avete visto è stato divertentissimo che cavolo sta facendo ragazzi beh stupido eh guarda ti picchio eh non puoi fare niente contro dunnis sto facendo un sacco di cose strane però vai bene sto piccando tutti quanti divertentissimo ehm ora però tecnicamente posso comprare anche dal negozio nuove cose pazzesche vediamo un attimo cosa c'è qua negozio no no i robux no i robux no almeno non ancora ma scusate effettivamente si può comprare qualcosa da parte il negozio qua però si può cioè si può o no domanda abbastanza pertinente alla cosa perché io non vedo niente di tutto ciò no e quindi mi chiedo ma dove dove è che si può potrebbe pagare le cose no di base dove è che si potrebbero comprare bella domanda perché io non lo so proprio magari forse in questa casa può essere ma però sto aspettando perché c'è qualcosa di strano effettivamente non questi soldi qua io non li posso utilizzare come li utilizzo ho distrutto e ho guadagnato 333 dollari provo ad andare in questo porto che secondo me ci può portare appunto in posti più belli e ma posso tipo buttarmi e andarmene via no ma non mi mi fido che caspita è cioè me ne sto andando ma si serio ma si può fare sta cosa allora sono alla cittadina come vedete ora tecnicamente qua se siamo ad una cittadina vedete qua c'è il negozio e quindi qua posso comprare le cose perfetto ora potrei comprare un veliero e una scialuppa gratis ma no io comprerò un veliero boh perché io sono un pirata no non posso andare con le scialuppe perché io sono un capitano pirata non posso andare con le scialuppe in giro tra poco ritorneremo e completeremo gli obiettivi che ci eravamo prefissati di là ovvero sconfiggere tutti quegli banditi che ci vogliono tanto distruggere le pappe però comunque volevo esplorare questa casetta cioè questa cittadina cittadanza che ci può dare magari tante cose interessanti come minimo no non voglio inventare grazie via via l'inventario però allora io obiettivamente vorrei anche tipo delle armi eccolo qua infatti infatti allora posso prendere la fionda il moschetto lo schioppo e non importa come non importa no no importa cosa cambia il moschetto io sono un pirata il moschetto 8.000 dollari scusate non ce li ho 8.000 dollari però magari la fionda costa di meno eh 5.000 ma tutto bene come può una fionda costare 5.000 dollari 10.000 dollari perfetto non comprerò nessun'arma è successo raga non sapevo di poter andare più velocemente vuoi impostare il punto di rigenerazione è meglio di no in realtà sapete perché perché poi magari non lo so per ora no 105 metri di distanza ma da cosa guardate la invece allora io direi di andare a prendere un attimo quel verriero che avevamo comprato e andare dietro praticamente no dove c'era quella cittadina e andare un po ad esplorare tutte le cittadine che ci sono intorno che secondo me ci sono tante più interessanti intanto io posso anche andare tipo più velocemente no guardate che velocità sono super veloce e ok salto qua molto bene adesso tecnica no vabbè ragazzo no che fego bellissimo è pazzesco comunque è pazzesco posso andare più veloce no e vabbè però è molto divertente molto divertente adesso andiamo oh miei marinai io sono il vostro il vostro capitano che vi parla no di solito si dice così comunque non so perché ma mi ricorda troppo one piece chi di voi ha visto one piece avete mai visto one piece allora tu con la scialuppa via io qua sono molto meglio cioè nel senso se permetti cioè nel senso c'è un mega veliero senza offesa signore ma io sono pro allora mi posiziono qua ok perfetto adesso avviciniamo no 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 ma è qua perfetto qua ci sono i negozi migliori salutami amico no saluti amico allora posso prendere la katana raga voglio prendere la katana come mille dollari però posso farli mille dollari aspe 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 come si fa i so perché io voglio la katana raga mi ricorda come si chiamava demon slayer avete mai visto demon slayer scrive allora scrivetemi gli anime che avete visto e se mi consigliate qualche anime per chi ha visto gli anime e scrivetemi se voi guardate gli anime perché magari io ve li ve li consiglio tipo invece non cioè tipo non li conoscete il che sarebbe abbastanza imbarazzante ma mi danno i soldi questi qua se ne ammazzo perché se no non li ammazzo utilmente avete visto no vabbè divertentissimo è divertentissimo boom 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 guardate che uso tutti i miei calci rotanti bellissimo ok mi ha dato dei dollaroni adesso posso andare a comprare la katana e la katana tecnicamente potrebbe aiutarmi ok adesso vado a comprare la katana assolutamente comunque stavo volando avete visto pazzesco andiamo qua ok katana no no la sciabola no la katana perché io sono un vero giapponese perfetto ora una katana che bello ho sempre sognato di infugnare una katana l'ho fatto lo sto facendo lo sto veramente facendo è stato sempre un sogno di infanzia è questo raga chi è che non sogna di diventare demon slayer ma che roba ma che figata sta roba scusate ma questo gioco è il mio preferito di sempre cioè mi permette di essere una katana vivente cioè volevo dire un cacciatore di demoni mi permette questi sono demoni brutto schifoso scusate questo è che questo è il taglio cioè questo questo è il coso è bellissimo ma allora vedo che qua c'è anche un'altra cosa che posso fare c'è un taglio ad aria praticamente però mass 20 non ho capito che cosa mass 20 forse il livello non ne ho idea ah no maestria è sopra c'è scritto maestria come si fa da ok più maestria come si fa ok la maesteria si può ottenere se si ammazzano questi qua come vedete bene dal vostro amico duni se tutto e iscrivetevi al canale grazie e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video